Sarà una mostra del cinema blindatissima, quella prevista per la 75esima edizione. A Lido sbarcherà Mirror, che in inglese significa specchio, è la prima sala operativa Interforce collegata con quasi 200 paesi da tutto il mondo. Il suo acronimo è SOI, in passato è stata utilizzata soltanto per il G7 di Taormina. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza punta moltissimo su Venezia perché è sicuramente il salotto buono dell'Italia ed è internazionale a 360 gradi. Questa sala operativa, che verrà allestita a cura della Direzione Centrale della Polizia Criminale, consentirà di avere durante il periodo della mostra internazionale del cinema la possibilità di collegarsi con 192 polizie nel mondo. Verranno adottate anche particolari misure antiterrorismo, con uno speciale pool Interforce e con un cospicuo contingente di uomini. Se riferisco i dati dell'anno scorso, alcune centinaia. Quest'anno ci sarà qualcuno di più. La sala verrà utilizzata per tutta la durata della Kermess cinematografica e sarà operativa 24 ore su 24, permettendo così di veicolare informazioni in materia di sicurezza sul territorio in tempo reale. Ci sarà un monitoraggio anche, oltre che sul nome, anche sui percorsi e sui viaggi che determinati soggetti potranno intraprendere perché ci saranno comunicazioni rapidissime da tutti i paesi di provenienza e ovviamente una verifica su quelli d'arrivo.